Grazie, onorevole Ricciatti. Onorevole Parentela, illustra anche la sua mozione 1-9-9-0. Prego. Grazie, Presidente. Le scelte operanti negli ultimi anni in materia di portualità, logistica, servizi universali ferroviari, nonché collegamenti aeree e stradali, hanno fortemente penalizzato la nostra Regione, la Regione Calabria, costringendola a una situazione di isolamento e degrado. Il diritto alla mobilità dei cittadini calabresi è stato fortemente ridimensionato dal degrado delle infrastrutture esistenti e dalla mancanza di una politica strutturale in grado di razionalizzare le risorse esistenti e programmare un piano di investimenti al passo con le sapervenute esigenze di mobilità. I collegamenti all'interno della Regione Calabria e quelli e da per la Regione sono stati caratterizzati negli ultimi anni dalle interruzioni di strategiche arterie stradali, dalla soppressione di numerosi treni nazionali, dall'isolamento della Calabria ionica, dal ridimensionamento di importanti aeroporti, quali quello di Reggio Calabria e Crotone, nonché dalla poca importanza riconosciuta al porto di Gioia Tauro. Relativamente alla mobilità stradale, la principale arteria è rappresentata dall'autostrada, la famosa A3, la Salerno-Reggio Calabria, famosissima in tutto il mondo, non c'è certo per la sua efficienza, che ha una estensione complessiva di 443 chilometri, dei quali 118 situati nella Regione Campania, 30 in Basilicata e 295 nella Regione Calabria. Il tracciato è tutt'oggi oggetto di continui lavori di manutenzione, modernamento e mesi in sicurezza con pesanti ricadute sulla viabilità stradale. Dal sito dell'ANAS si apprende come a fronte di 355 chilometri di rete stradale realizzata sono ancora in corso i seguenti lavori. 20 chilometri con lavori in corso di esecuzione relative al macrolotto 3 parte 2 tra gli svincoli di Lano-Borgo e Campotenese, 10 chilometri relative al tratto finale dell'autostrada tra lo svincolo di Campo Calabro, lo svincolo di Reggio Calabria e Santa Caterina, da sottoporre a intervento di messa in sicurezza, con bando di gara pubblicata a luglio 2015. Per i restanti chilometri di autostrada si prevede un piano di interventi di adeguamento e messa in sicurezza dei relativi tratti autostradali, comprensivo anche di alcuni nuovi svincoli richiesti da regioni e enti locali. In parte è già finanziato per quanto riguarda i seguenti tratti, quindi 6 chilometri relative al tratto tra il viadotto Stupino e il viadotto Altilia, per il quale sono in corso le procedure finalizzate all'appalto dei lavori. Poi 10 chilometri relative al tratto tra lo svincolo di Rogliano e lo svincolo Stupino e lo svincolo Stupino appunto da appaltare. Sempre da appaltare è l'intervento relativo al nuovo svincolo di Laureana di Borrello in provincia di Reggio Calabria. Come si vince dai dati, Presidente, la tratta più interessata dei lavori di messa in sicurezza e ammodernamento è dunque la più critica e quella che interessa la Regione Calabria. Vista l'importanza dell'opera, l'entità delle risorse interessate e le caratteristiche del territorio, l'attività di ammodernamento è stato oggetto di diverse indagini sulle infiltrazioni dell'andrangheta nei relativi appalti. Nel 2002, con l'operazione denominata Tamburo, furono eseguite 40 ordinanze di custodia cautelare tra imprenditori, esponenti delle Endrine e lavoratori dell'ANAS, con il sequestro di varie imprese. Nel 2007, con l'operazione Arca, furono arrestate 15 appartenenti a imprese aggiudicatari e di subappalti dell'autostrada. Secondo quanto riferito dal collaboratore di giustizia Antonio Di Dieco, le Endrine si sarebbero ripartite agli appalti per l'ammodernamento dell'A3, secondo logiche territoriali e precisamente alla famiglia di Castrovillari sarebbe stata affidata la tratta del confine con la Basilicata fino a Mormanno, alle famiglie della Sibaritide e di Ciro la tratta Mormanno-Tarsia, alle famiglie di Cosenza la tratta Tarsia-Falerna e alle famiglie di Lamezzi alla tratta Falerno-Pizzo. È del tutto evidente, Presidente, come le infiltrazioni malavitose hanno avuto e hanno tuttora un forte impatto all'interno delle situazioni in cui si trova attualmente l'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Le perenni cantierizzazioni hanno ricadute non solo in termini di avvelibilità, ma anche sugli operai. Infatti dal 2010 ad oggi hanno perso la vita 12 operai. L'ultimo episodio costato la vita ad un giovane operario di 25 anni, precipitato da un'altezza di 80 metri, ha portato alla chiusura per svariati mesi del famoso viadotto Italia, costringendo gli automobilisti diretti a Reggio Calabria a proseguire lungo la strada costiera tirrenica e quelli diretti a Salerno a arrivare lungo un tortuoso percorso sulle strade di montagna del Masticcio del Pellino, evidentemente inadeguate ad accogliere un flusso di traffico così importante e a consentire un passaggio regolare dei mezzi pesanti. Nei periodi di chiusura del viadotto la Calabria ha di fatto vissuto una situazione di reale isolamento e sono state tante le ricadute in termini di mobilità delle persone e delle merci, tanto da indurre il 3 giugno la giunta regionale calabrese a chiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di indire lo stato di emergenza e di istituire una commissione ministeriale ispettiva per verificare le cause dell'evento e quantificarne gli enormi danni alle attività economiche calabresi. Secondo una stima ressonata dall'ANAS per il completamento dei lavori di messa in sicurezza e per la chiusura di tutti i cantieri, occorrerebbe stanziare 2,3 miliardi di euro a fronte degli oltre 8 miliardi già stanziati. Tale situazione, caratterizzata da canterizzazioni costanti, pettorine arancioni presenti in ogni chilometro di strada, deviazioni e tutta una serie di altri disservizi per l'utenza, secondo le previsioni del Presidente del Consiglio, dovrebbe risolversi al massimo il prossimo anno, con la chiusura di quasi tutti i lavori, insomma. Questa previsione risulta poco confortante e veritiera, soprattutto se considerate tutte le affermazioni precedentemente dai responsabili degli addetti ai lavori, tra i quali Pietro Ciucci, Corrado Passera, Silvio Berlusconi, che avevano indicato il 2013 come data di fine lavori. Ovviamente questo non è stato mai mantenuto. Nemmeno la tratta dell'A3 che interessa la Regione Basilicata è esente da criticità. Sebbene dal sito dell'ANAS non risulti aperto nessun cantiere, i 30 chilometri che interessano la Regione Basilicata sono caratterizzati da numerose deviazioni, chiusura al traffico per i lavori incompleti e gravi problemi infrastrutturali. Il tratto lucano all'altezza delle Gallerie Arenazza, Lago Negro, Lauria, può certamente essere definita ad alta pericolosità risposta rispetto a tutto il percorso dell'A3. Infatti si sono susseguiti negli anni una serie di incidenti stradali, anche mortali, causati dalla presenza di ghiaccio e nebbia sul tracciato poiché inadeguato alle condizioni climatiche del posto. Gli interventi sull'infrastruttura hanno mitigato i disagi, ma non hanno risolto il problema dell'insicurezza della stessa. Negli ultimi mesi, inoltre, sul percorso appena citato, si sono verificati gravi incidenti nei cantieri in conseguenza ad alcune frane che hanno causato gravi danni alla salute degli addetti ai lavori. La seconda arteria stradale regionale, per importanza, è la famosa statale 106 Ionica, anche ribattezzata Strada della Morte, che ha un'estinzione complessiva da Taranto a Reggio Calabria di 491 km, di cui 39 km nella Regione Puglia, 37 in Basilicata e 400 km nella Regione Calabria. Non mancano criticità relativamente a questa strada, che risulta essere lungo il tratto regionale, del tutto inadeguata ad accogliere i volumi di traffico, a causa di una errata progettazione, di una pessima manutenzione, della presenza di guardrail che sono del tutto fuori legge e di una cartonolistica pubblicitaria selvaggia, e inoltre anche la scarsa mancanza di illuminazione. Nella Regione Calabria, l'ANAS ha previsto sia interventi di adeguamento e messi in sicurezza della strada statale 106, esistente nei punti di maggiore pericolosità, sia la realizzazione di nuovi tratti invarianti a quattro corsie per la realizzazione di un itinerario a lunga percorrenza. Tratti della nuova strada statale 106 a quattro corsie sono stati già realizzati tra Rocca Imperiale e Roseto Capospulico, al confine con la Basilicata per circa 15 km, mentre ulteriori tratti già modernati interessano le zone ridosso dei centri abitati di Gabella Grande, frazioni di Crotone, 17 km tra lo svincolo di Squillace e di Catanzaro e lo svincolo di Simiri Cricchi, nell'ambito del megalotto 2, dove attualmente sono in corso dei lavori relativi al prolungamento di questa statale, ed infine sul megalotto numero 1, tra Locri e Marina di Gioiosa Ionica, sono stati ultimati altri 12 km ed aperti al transito 10,5 km. Questa strada statale ionica dovrebbe essere completamente integrata con l'autostrada Salerno-Legio-Colabria, mediante anche la realizzazione di arterie trasversali di collegamento, come la nuova strada statale 182, la famosa trasversale delle Serre, e in parte già in esecuzione, la strada statale 280, la strada dei Due Mari, e la strada 534, tra lo svincolo di Firmo e di Sibari. Sui tratti inaugurati appena tre mesi fa si sono realizzati crolli e interruzioni, con conseguente aumento dei costi sostenuti dall'ANAS. Sui tratti interessati dai crolli, la Commissione atta a valutare il progetto nel verbale numero 8 del 9 dicembre 2004, aveva espresso le proprie perplessità giudicando non valutabili le varianti e proposte e poi realizzate contenuti nel progetto Astaldi. Anche la vicenda relativa alla strada del Medio Savuto, che è stata intitolata La strada che non c'è, è potenziale infrastruttura aviaria di fondamentale importanza per la Calabria centrale, perché è progettata per collegare il raccordo autostradale del Medio Savuto, la statale 616, e la strada dei Due Mari, la 280, e lede fortemente il diritto alla mobilità nella Regione Calabria. Questa infrastruttura, progettata per essere un'alternativa veloce e più breve rispetto alla tre, per raggiungere i principali centri urbani calabresi situati nelle province di Catanzaro e Cosenza, i cui lavori sono iniziati negli anni 80, io in pratica dovevo ancora nascere, non hanno ancora visto la luce ed è oggetto di continui finanziamenti da parte del Cipe, senza però che vi siano dei reali sviluppi in termini di realizzazione dell'opera, né tantomeno una copertura totale. Io sono stato sul posto, ho verificato questi cantieri e ho potuto constatare che stiamo parlando di un ecomostro lungo diversi chilometri. Un particolare importante per la mobilità locale sarebbe una rapida realizzazione dei lavori del secondo lotto, che è stato finanziato dal Cipe, e l'individuazione delle risorse necessarie a completare l'intero tracciato. Questo lo chiedono i cittadini che da anni si stanno mobilitando per chiedere che venga terminata questa importante strada. La chiusura al traffico avvenuta nel lontano 2006 del ponte a Due Corsie sulla statale provinciale 163, sito nella località Savuto, in agro in Nocerina Terinese, in provincia di Catanzaro, che costituiva l'unica alternativa alla statale tra la provincia di Catanzaro e di Cosenza, e poi il crollo totale nel 2008, stanno provocando enormi disagi a tutta la fascia tirrenica catanzarese-cosentina, sia per quanto riguarda le zone costiere e che montane. Di recente, il 20 marzo scorso, con delibera numero 68 della Giunta regionale calabrese, ha riassegnato le somme destinate all'intervento sul ponte e sulle strade di accesso, riducendo in modo incomprensibile la dotazione sul fondo da Euro 6.500.000 a Euro 2.462.000. La situazione è resa ancora più grave dalle minacce alla viabilità sulla statale 18, già danneggiata negli anni dalle forti mareggiate in prossimità del porto di Amantea, dove si attende da troppo tempo l'inizio di un lavoro già appaltato dalla regione Calabria, ritardato da inaccettabili lungaggini burocratiche. L'ipotesi verosimile di un'interruzione della viabilità di quel tratto porterebbe danni enormi all'economia locale. Per non dire degli enormi disagi nella vita quotidiana di migliaia di cittadini calabresi, in quel tratto la Calabria a questo punto rimarrebbe divisa a metà, altro che ponte sullo stretto. Abbiamo speso per il ponte sullo stretto, senza nemmeno farlo, quasi un miliardo e mezzo di Euro. Realizziamo magari questo ponte sul Savuto che serve di più ai cittadini calabresi. Analoga situazione, Presidente, di criticità si registra per quanto attiene il collegamento ferroviario. Secondo quanto emerso dal rapporto pendolaria del 2014, in Calabria si è assistito in quattro anni a tagli per il 16,3%, un aumento delle tariffe del 20%, assenza di stanzionamenti per il servizio e per il materiale rotabile ed una drastica riduzione sulla quantità di treni per chilometro che passano da 7,4% a 5,8%. Nel corso del 2014 la Regione Calabria inoltre ha tagliato 10 milioni di Euro al contratto di servizio con Trenitalia, già impoverito di molto negli ultimi anni. In seguito a questa decisione, a partire dallo scorso giugno, è stata decretata la soppressione di ben 26 treni solo sulla linea Ionica, tra Reggio e Metaponto, e tra Catanzaro Lido e la Mezzia Terme. In seguito alle trattative tra Regione e Trenitalia, i tagli poi sono diventati 16, con 10 corse ripristinate, ma allarmano le notevoli riduzioni su alcune linee, come la Ionica, la linea Rosarno-Lamezia, Centrale e Via Tropea. Drammatica è proprio la situazione della linea Catanzaro-Lamezia Terme. Catanzaro-Lido-Lamezia Terme è parzialmente rinnovata nel 2008, con la costruzione della variante Catanzaro-Lido-Settingiano, e della nuova stazione di Catanzaro-Germaneto. Infatti, dopo un taglio di 10 milioni di Euro da parte della Regione sul contratto di servizio avvenuto la scorsa estate, la linea Catanzaro-Lido-Lamezia Terme, Centrale, è stata classificata come tratta a scarso traffico e vede 10 collegamenti al giorno per senso di marcia, di cui solo 3 con treni regionali. Il resto è stato sostituito con autobus. In pratica si è tornati alla sostituzione dei treni con mezzi su gomma, proprio come nel periodo di interruzione della linea tra il novembre del 2011 e l'aprile del 2013, a seguito del crollo di un ponte tra Marcellinara e Ferroleto Antico. Nonostante sia una linea di 42 km a binario unico, risulta strategica perché unisce i versanti tirrenico e ionico della Calabria, tanto da aver fatto proporre la sua eltrificazione più volte negli ultimi anni. I tagli, quindi, aggiungono disagi per un'area, quella ionica, già martoriata sul fronte del trasporto ferroviario e che già da anni non si può raggiungere in modo diretto in treno la mezza terme centrale, avendo spezzato i collegamenti regionali provenienti dalla Ionica a sud, quindi Reggio Calabria e Roccella Ionica e da Crotone, Crotone e Sibari a Catanzarolido. Anche le ferrive montane possono avere un ruolo fondamentale per la mobilità calabrese, anche in termini di sviluppo economico e turistico. Sono molti i comitati che chiedono da tempo di rilanciare il progetto di recupero della linea ferroviaria Calabro-Lucana, come ad esempio la linea che dalla piana di Sibari, spezzano albanese, raggiungeva il Pollino, Lago Negro, servendo ben 14 Paesi e altri 7 indirettamente, ma con caratteristiche innovative e funzionali allo sviluppo socio-economico di una vasta area calabrese, in particolare l'area del Parco Nazionale del Pollino. Altro esempio di ferrovia recuperabile è la tratta che collega San Giovanni in Fiore con Camigliatello Silano e che potrebbe collegare anche l'importante città di Crotone. In altri Paesi si realizzano le cosiddette Green Ways, ovvero le vie verdi. In Calabria, oltre alle solite promesse elettorali mai mantenute, abbiamo solo vecchi ricordi e progetti irrealizzati. Anche i treni a lunga percorrenza hanno subito dei cambiamenti importanti nel corso degli ultimi anni, mentre addirittura finiranno nel dimenticatoio la maggior parte dei treni notturni, che almeno allo stato attuale sono destinati a scomparire. Tra il 2010 e il 2011 sono stati soppressi 4 intercity notturni e addirittura 12 treni espressi, che permettevano ad un costo contenuto di collegare questa regione sia con la Sicilia e sia con il resto d'Italia, soprattutto con Roma. Nel 2013 sono stati tagliati gli espressi diretti a Torino, Milano, Venezia, Bolzano. Nel 2012 i tagli più gravi hanno riguardato la linea ionica. In quest'ultimo caso, oltre alla mancanza di passaggio dei treni, con un solo treno al giorno tra Metaponto e Reggio Calabria ed un cambio a Catanzaro Lido, si assiste anche alla chiusura di biglietterie di stazioni importanti come quella di Siberi e quella di Crotone. La presenza di servizi su gomma in sovrapposizione al treno, alle porte del 2015, non è più accettabile. Sono costi che ingiustamente vengono sostenuti dai cittadini calabresi, peraltro beffati due volte perché, visto che il servizio è assolutamente poco appetibile, a caso degli alti tempi di percorrenza, che sono compresi, quando va bene, 45-50 minuti per correre solo 40 chilometri. Alla luce di questa drammatica situazione, che vede la Calabria come abbandonata a se stessa per via di politiche inefficienti e clientelari da parte della Regione Calabria, impegniamo il Governo ad attuare per le parti di propria competenza le opportune iniziative, affinché in tempi rapidi siano ammodernati e ricostruiti i 20,5 km che necessitano ancora di intervento ed ultimati i 98 km che devono ancora essere cantierizzati e quindi ad assumere nuove iniziative concrete, finalizzate, a definire in tempi brevi l'iter conclusivo dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. Ad attuare le opportune iniziative anche attraverso l'autorità nazionale anticorruzione, affinché venga eliminato il rischio di infiltrazioni mafiose nell'affidamento di appalti e concessioni per la costruzione, ricostruzione e manutenzione di questa autostrada, assicurarsi che all'interno dei cantieri vengono rispettate le normative in materia di sicurezza per i lavoratori e ad assumere ogni utile iniziativa volta a garantire il reale godimento da parte dei cittadini calabresi del diritto alla mobilità, anche attraverso lo stanziamento di ulteriori risorse da destinare al ripristino e alla rivalorizzazione e implementazione delle linee ferroviarie, anche quelle considerate a scarso traffico, attraverso lo studio di nuovi programmi di mobilità, favorendo, ovvero possibile, il trasporto su ferro rispetto a quello su gomma. Ad adoperarsi affinché vengono potenziati i collegamenti lungo le principali direttrici nazionali e regionali, assicurando una integrazione modale con i porti, aeroporti e stazioni ferroviarie. A vigilare affinché venga garantita una rete di collegamenti ferroviari in linea con gli standard nazionali per quanto attiene la velocità e la modernizzazione dei mezzi e ad operarsi finché, relativamente per quanto riguarda la famosa strada della morte, la 106, si provveda nel minor tempo possibile alla messa in sicurezza dei tratti esistenti, alla realizzazione di nuovi tratti in tempi certi, secondo logiche di correttezza, economicità ed efficienza e rivalutando in alcuni tratti l'analisi costi e benefici, riducendo al minimo, l'impatto ambientale dell'opera. Per concludere, Presidente, la Calabria è la regione più povera d'Europa, è la più povera del Paese e la soggente grida aiuto. Di certo la presenza della più grossa organizzazione criminale d'Italia e tra le più potenti d'Europa non l'aiutano a decollare, ma neanche l'assenza perpetua dello Stato riesce a dare una mano. La Calabria, abbandonata nel senso più stretto del termine, è lasciata a se stessa, irraggiungibile per chiunque, nonostante sia terra vocata naturalmente al turismo, grazie alle bolezze che possiede alla ricchezza del proprio patrimonio storico ed artistico, la Calabria è quasi consegnata al caso, patrimonio soltanto quando si tratta di riaccattare voti in prossimità delle competizioni elettorali, è abbandonata a se stessa anche grazie a una classe politica che nei decenni trascorsi l'assedotta e abbandonata, resa schiava dalle promesse e dal voto di scambio. Una Calabria che è a sud del sud e che possiede infrastrutture viarie degne del Medioevo, questa Calabria chiede strade, treni, aerei che possano renderla capace di mostrare al mondo intero le proprie bellezze e non soltanto per portarle via i suoi figli minori costretti a fuggire per non tornare più. Grazie Presidente.